Ciao a tutti, sono Alessia Caraccelo dell'Under 15 della Dream Team Roma. Gioca a pallavolo da 5 anni nel ruolo di martello, ma sono arrivata alla Dream Team 3 anni fa. Prima di questo sport ne ho praticati altri, ma solo giocando a pallavolo ho capito il vero senso della parola squadra. Per me la pallavolo è passione, responsabilità e altruismo, dove ogni singola persona ha un obiettivo comune. Fuori dalla pallavolo, frequento la terza media presso la scuola statale Pinkelmann. Le materie che mi piacciono di più sono la matematica, la storia e lo spagnolo. La passione per questa lingua si riflette anche nella musica che mi piace ascoltare e nei paesi che vorrei visitare, come il Brasile, l'Argentina e la Spagna. Adoro passare il mio tempo libero con la famiglia e gli amici, che insieme alla squadra mi rallegrano la giornata e mi fanno vivere quelle che sono state e saranno i momenti più belli della mia vita. Mi piace ascoltare musica, andare ai concerti, guardare film e serie tv e leggere libri gialli. Quest'anno nella squadra si è rafforzato ancora di più il legame tra noi ragazze e finalmente è cominciato il campionato. Non vedo l'ora di riprovare con loro le emozioni forti e di vivere insieme questa bellissima esperienza. Ciao a tutti, spero che il mio video vi sia piaciuto.